Un cimitero è un luogo di raccoglimento, di preghiera, di saluto ai propri cari defunti, un luogo frequentato giornalmente da centinaia di persone che non aspettano certo novembre per commemorare il ricordo dei propri parenti scomparsi. È un luogo dove oltre alle persone entrano le emozioni, i sentimenti, i ricordi. Ognuno dei visitatori porta con sé un bagaglio di sensazioni. Ma alcune persone, oltre a ciò, portano anche qualcos'altro che non dovrebbe entrare in un cimitero. Una bicicletta. Sì, avete capito bene, in bici sino alla tomba del defunto, salvo poi metterla in un angolino per sbrigare la pratica floreale, per poi rinforcarla e tornare a casa. Un indignato cittadino, frequentatore assiduo del cimitero centrale, pensiamo a noi, ci ha segnalato e documentato fotograficamente questa indecorosa, come la definisce lui stesso, abitudine di alcuni. Magari, abbiamo pensato noi, non ci sono posti dove lasciarla la bicicletta. E così siamo andati a controllare, ma all'esterno dell'entrata del cimitero le rastraliere ci sono, come anche le due ruote tra una cappella ed un'altra. E anche lungo il muro di cinta c'è spazio dove parcheggiare la bicicletta e quindi spazio se ne trova. Pigrizia, menefreghismo delle regole, non curanza, quali che siano le motivazioni di chi ha questa abitudine, ci sentiamo concordi con il segnalatore sull'indecoroso e speriamo che nel cimitero centrale d'ora in poi ci entrino solo persone e mazzi di fiori.